Questa settimana ho scoperto quanto è vero che tra moglie e marito non devi mettere il dito. Infatti sono stato chiamato da alcuni miei clienti che hanno una piccola azienda a conduzione familiare. In questa azienda c'è una stanza con due computer che hanno problemi di prestazioni. Purtroppo il periodo è quello che è e non è il momento di cambiare le macchine, quindi dobbiamo giocare con le carte che abbiamo in mano. Così sono andato sul pc del titolare e ho cambiato alcune impostazioni. Alla fine del lavoro il computer andava meglio e il titolare si è detto pienamente soddisfatto. Così sono passato sulla postazione a fianco che invece appartiene a sua moglie. Anche qui ho cambiato delle impostazioni e il computer effettivamente andava meglio al termine e quindi tutto bene e tutti soddisfatti. E invece no, perché il marito mi ha guardato e mi ha detto ma come sul mio pc per farlo andare meglio hai cambiato e disattivato quell'impostazione mentre sul computer di mia moglie sei andato ad attivarla. Qualcosa non mi torna. E invece no, torna tutto. Vediamo perché. Ti senti pronto? Iniziamo. L'impostazione di oggi è facile facile ma non per questo meno importante. Va infatti a gestire la distribuzione delle risorse tra le app in background, cioè quelle che lavorano ma non le vediamo è quelle in foreground, cioè le finestre sulle quali andiamo a lavorare. Un esempio di app in background può essere l'antivirus oppure il backup, mentre un'app in foreground può essere il nostro browser, una finestra di Word oppure un gioco. Andiamo a vedere nel tuo caso come è meglio impostare questa opzione. La prima cosa da fare sarà portarci in basso sul tasto start, farci clic e scegliere la voce impostazioni, questa qui. Apriamo le nostre impostazioni e sul lato sinistro scegliamo la voce giochi. Una volta entrati nei giochi dovremo selezionare l'ultima voce, quella che dice modalità gioco. Apriamola e vedremo che tramite questo selettore avremo la possibilità di attivare o disattivare questa impostazione. Ma prima di prendere la nostra decisione cerchiamo di capire meglio che cosa faccia maggiormente al caso tuo. E' importantissimo infatti non lasciarsi fuorviare dalla parola gioco. Quello che questa impostazione fa nel momento in cui viene attivata sono infatti una serie di cose. innanzitutto va ad attribuire maggiore priorità alle app in foreground come abbiamo già detto. Ma inoltre va a eliminare le notifiche quelle che compaiono in basso a destra dove di solito c'è il mio grazioso faccino cioè in questo punto qui e ad annullare o meglio sospendere temporaneamente tutti gli update di Windows per evitare che sottraggano troppe risorse al sistema. Sarà quindi opportuno attivarla sul tuo computer se lavori prevalentemente con app in foreground ma ad esempio nel caso della moglie del titolare dell'azienda che ti ho citato il suo computer ospitava un server non dedicato con una serie di app che giravano in background. Andando in questo caso ad attivare questa impostazione si andava a penalizzare anche il server stesso. Nel caso invece del marito della signora che lavora prevalentemente con AutoCAD era più importante dare priorità a quest'ultimo programma a discapito di tutte quante le app in background. Quindi in soldoni quello che ti consiglio di fare è valutare quante app in background utilizzi sul tuo computer e quanto queste sono realmente importanti. Per farlo ti basta andare qui in basso su questa frecciolina, cliccarci su ed esaminare tutto quello che gira in background sul tuo computer. Se sono app di cui generalmente puoi fare a meno puoi tenere tranquillamente attivata la modalità gioco. Diversamente il mio consiglio è quello di disattivarla. Se invece vuoi un consiglio generale ti dirò che solitamente è opportuno tenerla attivata perché siamo soliti lavorare molto di più con le app in foreground che con quelle in background. In particolar modo naturalmente se sei un gamer. E siamo giunti al termine anche di questo video ma prima di concludere ci tengo a dire una cosa e lo faccio con tutto il cuore. Mi dispiace moltissimo di essere rimasto un po' indietro con le risposte ai commenti. La community sta crescendo, i commenti crescono e aumentano di conseguenza e io faccio tutto quello che posso per rispondere a quanti più commenti possibile. Purtroppo devo barcamenarmi nel mio tempo libero che è quello che dedico a questi video con il lavoro e tutti gli altri impegni della quotidianità. Quindi per favore non offenderti se per caso vedi che non rispondo ad un tuo commento sicuramente l'ho letto e ti garantisco che prima o poi riuscirò a trovare il tempo di rispondere a tutti quanti. E detto questo confidando nel tuo perdono non mi resta come di consueto che ringraziarti per avermi fatto compagnia nel corso di questo video, salutarti e darti appuntamento. Alla prossima!